ecco salve a tutti oggi per intanto per prima cosa vi auguro a tutti una buona giornata che oggi è veramente anche se stiamo passando un po questo freddo qua che ci fa tremare però c'è una bellissima giornata di sole ecco io adesso proseguo insieme con voi voi che siete dietro non siete vicino a me però per poter proseguire questo bellissimo cestino che sto realizzando insieme a voi per il periodo di pasqueta ecco adesso con l'ultimo giro che abbiamo e poi sotto la descrizione del video dove anche su youtube vi leggo sempre il video anche precedente e anche quello che sia del primo e il secondo per che così non serve che andate sempre dietro a vedere potete trovarli subito sotto nella descrizione nel mio canale youtube in ogni video almeno adesso col prossimo vi inserisco quello della prima parte e anche dalla seconda parte ve lo leggo nella descrizione sotto ecco allora cominciamo subito il procedimento del nostro fondo del nostro cestino ecco io ho dovuto farmi un attimino un piccolo calcolino per quadrare un attimino e poi anche nella pagina dietro ve lo faccio anche vedere perché adesso entriamo nel sedicesimo giro anche per farmi un attimino il calcolo perché qua in questo schema qua ci sto una parte ma non più tutta anche per poter proseguire bene il nostro lavoro ecco nell'ultimo giro nel quindicesimo giro abbiamo lavorato le prime 5 catenelle 5 o 5 punti bassi in ognuno un punto basso nel sesto abbiamo lavorato due punti bassi in uno dopodiché abbiamo lavorato 13 punti bassi in ogni punto maglio catenella un punto basso in giascuno un punto basso nel quattordicesimo abbiamo lavorato due punti bassi nelle successive tredici punti in maglia o catenelle sottostante in ognuno abbiamo lavorato sempre un punto basso e nella quattordicesima di nuovo due punti bassi questo poi proseguendo per tutto il giro e quindi chiudendolo con un punto bassissimo per il nostro giro ecco così riusciamo a partire subito in questo sedicesimo giro lavoriamo di nuovo la prima catenella una catenella che non contiamo successivo nelle successive due punti maglia catenella in giascuno lavoriamo un punto basso uno io inserisco il marchio così mi segna anche il giro che è molto utile con i punti bassi uno e due nel secondo un altro punto basso nel terzo lavoriamo due punti bassi uno due nelle successivi quattordici catenelle punto mali in giascuno lavoriamo un punto basso uno due due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici e quattordici tredici e quattordici nella quindicesima punto male o catenella qua lavoriamo due punti bassi uno città uno nella quindicesima due punti bassi ecco io adesso ho lavorato due punti bassi adesso nelle successive quattordici in giascuno lavoriamo un punto basso nella quindicesima lavoriamo due punti bassi Questo adesso lo ripetiamo in ogni quindicesimo catenella o punto basso, cioè punto maglia, lavoriamo due punti bassi e se no sempre uno. Questo per tutto il giro finché arriviamo qua e che lo chiudiamo con un punto bassissimo. Ecco, terminato anche il nostro sedicesimo giro, adesso partiamo subito chiudendo sempre con un punto bassissimo il giro. Cominciamo col diciassettesimo giro. Stavolta lavoriamo sempre in una catenella che all'inizio del nostro lavoro, però non lo quantiamo. Nelle successive 3 catenella o punto maglia, in ciascuno, lavoriamo un punto basso. Uno, due e tre. Adesso lavoriamo, nel quarto, lavoriamo due punti bassi. Uno e due. Nelle successive 15 punti maglia, catenella, lavoriamo in ciascuno un punto basso. Uno, due, tre, quattro, cinque. Io adesso lavoro gli altri 10 e poi proseguiamo subito. Ecco, io anch'io adesso ho lavorato nelle successive, quindi scatena il punto maglia in ciascuno un punto basso. Nella sedicesima, lavoriamo due punti bassi. Uno e due. Nelle successive 15 catenella o punto maglia, in ciascuno, lavoriamo di nuovo un punto basso. Nella sedicesima, lavoriamo sempre due punti bassi. Dopo di nuovo, nelle successive 15, di nuovo in ciascuno un punto basso. E nella sedicesima, due punti bassi. E questo lo ripetiamo finché arriviamo dal nostro chiusore del giro. E lo chiudiamo di nuovo con un punto bassissimo. Ecco, ho terminato anche il nostro diciassettesimo giro. Cominciamo subito, chiudendolo sempre con un punto bassissimo il nostro giro, cominciamo subito con il nostro diciottesimo giro. Sempre con una catenella che non viene contatto. Nelle successive 4 catenelle o punto maglia, in ciascuno, lavoriamo con un punto basso. Uno. Dove io qua inserisco di nuovo il mio marchio, il segna giri. Due. Tre. E quattro. Nel quinto, nella quinta catenella o punto maglia, lavoriamo due punti bassi. Uno. E due. Nelle nostre successive 16 catenelle o punto maglia, lavoriamo in ciascuno, sì, nelle successive 16, lavoriamo in ciascuno un punto basso. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Nella diciassettesima, lavoriamo due punti bassi. Uno. E due. Nelle successive 16 catenelle o punto maglia, in ciascuno, lavoriamo 16, un punto basso, in ciascuno, nelle successive 16 catenelle o punto maglia. Nella diciassettesima, lavoriamo due punti bassi. E questo lo ripetiamo di nuovo per tutto il giro, finché arriviamo qua, alla fine di questo giro. Terminato anche il nostro diciattesimo giro, lo chiudiamo sempre con un punto bassissimo, e cominciamo subito a creare una catenella, poi nelle successive 5, qua ho già creato il disegno per andare avanti, così andiamo anche più veloce. Nelle successive 5 catenelle o punto maglia, in ciascuno, nelle successive 5, lavoriamo un punto basso. Uno. e adesso inserisco di nuovo il marchio. E adesso stiamo quasi arrivando alla fine del sottofondo del nostro cistino. Uno. Due. Tre. Quattro. e cinque. Nel sesto, lavoriamo due punti bassi. Uno. E due. Nelle successive 17, catenelle o punto maglia, in ciascuno lavoriamo un punto basso. In ciascuno sempre uno. Nelle successive 17 catenelle o punto maglia. In ciascuno sempre uno. Uno. e due. E due. Tre. Quattro. Cinque. Seis. Seis. Sette. E adesso finché arrivo sul diciassettesimo, nel diciottesimo lavoriamo poi due punti bassi. però fino al diciassettesimo lavoriamo sempre su ciascuno un punto basso. Una volta lavorato su ognuno delle catenelle il punto maglia, e nelle successive delle 17, in ognuno sempre un punto basso, nel diciottesimo lavoriamo due punti bassi. e poi lo ripetiamo di nuovo nelle successive 17, e nel diciottesimo lavoriamo due punti bassi. ecco, è così come sposto un attimino soltanto così vi faccio vedere un attimino anche lo schimino che sto realizzando passo qua passo e questo fosse il nostro diciannovesimo giro. lo metto anche più vicino che così potete vedere poi alla fine lo faccio vedere, ecco, spero che si riesce a vedere che passo passo praticamente ho costruito anche il disegno. come vedete su ciascuno c'è sempre un punto bassissimo dove ho segnato la forma dalla V, vuol dire su uno che si devono lavorare due punti bassi, e poi di nuovo successivo, in non ciascuno sempre un punto basso, nel diciottesimo di nuovo due punti bassi, e questo ripetendo finché arrivo qua e poi lo chiudiamo di nuovo con un punto bassissimo e poi ci troviamo di nuovo. appena terminato anche il diciannovesimo giro, proseguiamo subito col giro successivo. ecco, adesso anch'io nel frattempo ho terminato anch'io il giro, cominciando sempre con una catenella che ho chiuso con un punto bassissimo il giro, e con una catenella per comincio che non conto il punto maglia. adesso in questo giro che abbiamo lavorato, questo era l'ultimo adesso di questa parte, adesso nel giro successivo, nel ventesimo giro, lavoriamo su ciascuno per tutto il giro, sempre un punto maglia, cioè un punto basso, chiedo scusa averlo detto sbagliato, un punto basso, in ciascuno sempre un punto basso, per tutto il giro, qua segno il marchio perché adesso arriva il bello del lavoro, sempre un punto basso, in ciascuno delle catenelle punto maglia, per tutto il giro e poi ci troviamo qua, chiudendolo con un punto bassissimo e poi proseguiamo subito col lavoro successivo, io ve lo spiego poi subito, appena arrivato qua il giro, facendo tutto su ciascuno lavoriamo sempre ogni catenella punto maglia, lavoriamo su ciascuno sempre un punto basso per tutto il giro, ecco terminato anche questo giro che abbiamo lavorato soltanto in ciascuno un punto basso, adesso io prendo il centimetro perché volendo si può anche farlo più grande, però mi basta così per questo perché è una piccola decorazione dove poi proseguiamo anche con altre cose che aggiungiamo, vedete che diventa un lavoro bellissimo, ecco io adesso faccio un centimetro e ve lo faccio vedere la larghezza, ve lo facciamo in quattro, è di 9 cm, 9, ve lo faccio vedere più da vicino, qua è di 9 cm, girandolo dovrebbe essere la stessa cosa, in qualsiasi che quadra sono sempre 9 cm, perché se si proseguiva diversamente, veniva un formato a 6 cm, perché essendo che erano sempre questi aumenti, così per tenerlo anche più nella parte rotonda abbiamo realizzato questo, adesso nel nostro ventunesimo giro, adesso cominciamo a prendere la forma per il cestino, perché il sottofondo adesso l'abbiamo fatto e adesso proseguiamo dalla parte dall'esterno per farla salire poi, per far sì che ci sta anche in piedi, perché questo è quello interno e questo rimane poi quello dall'esterno, ecco proseguiamo subito, adesso la prima catenella come solito, lavorando lavoriamo avanti ancora con i punti bassi, però stavolta non prendiamo tutti i due fili, non li prendiamo, io spero che si vede bene, prendiamo in ciascuno che lavoriamo poi sempre un punto basso in ciascuno, finché chiudiamo di nuovo il giro, però prendiamo soltanto quello dall'esterno, un filo, non tutti i due, non passando su tutti i due, però soltanto su uno dall'esterno, perché questa è la parte esterna e questa è la parte dall'interno, però prendiamo soltanto quella dall'esterno, un filetto, lo avvolgiamo e lo lavoriamo a punto basso, io qua inserisco il marchio, perché poi è anche il fine del giro, perché mi segna il giro sempre, ecco così ve lo faccio vedere ancora una volta, prendiamo il quello successivo, prendiamo, non tutti i due, un filetto, passiamo e lo lavoriamo a punto basso, 1, soltanto un filetto, non tutti i due, in ciascuno dei punti bassi sottostanti, che ci dà poi anche la forma più precisa, io ci vado qua un attimino lenta, così che potete vedere, quello successivo, ecco e questo praticamente lo ripetiamo per tutto il giro, sempre un filetto, e questo poi lo proseguiamo per tutto il giro, adesso io proseguo, quando arrivo qua, poi vi spiego subito avanti, terminato questo giro, adesso praticamente proseguiamo per il momento, sempre con dei punti bassi, però in un totale di 10-12 giri, però sempre e soltanto con i punti bassi, per 12 giri, però possiamo lavorare di nuovo tranquillamente, prendendo tutti i due fili, questo era soltanto per dare la forma del cestino, adesso lavoriamo di nuovo, come al solito, sempre prendendo tutti i due fili, a punto basso, passando in ogni catenella, punto basso sottostante, lavorando sempre un punto basso, e questo praticamente lo, questi giri qua, adesso, questo fosse il, perché la prima parte l'abbiamo terminato, questa è adesso la seconda parte, dove andiamo in salita, e questo, in totale di 10-12 giri, per intanto, realizziamo 10, 10, 10 giri intanto, 10-12 giri, 10 il massimo, perché poi dopo cambia un attimino il lavoro, ho spentato 10 giri, in totale, adesso questa è la prima, e poi dopo questa altri 9, e poi nel prossimo del tutorial, così questo, andiamo avanti, proprio per abbellire, proprio il nostro, cioè il procedimento di questo, di questo bellissimo cestino, che sto realizzando, insieme a voi, adesso per intanto, andiamo avanti, in totale di 10 giri, dopo questo altri 9, e poi riesco, praticamente, spiega, proseguire, un attimino meglio, perché ho, qualche cambiamento lì, però devo vedere l'altezza, perché non voglio, uno se vuole, può farlo anche poi più alto, una volta finito, può farli più larghi, più alti, uno come vuole, in qualsiasi tipo di forma, faremo sicuro anche altre cose, come cestini, li faccio molto volentieri, e dopo, alla fine, dopo i 10 giri, cambiamo un attimino il lavoro, perché dobbiamo fare anche la bellezza, che ci dà una bella rifinitura, poi alla fine, questa, ve la spiego, passo passo, nella pratica, nel, nel prossimo tutorial, del video, e per intanto, adesso, questi, in totale, di 10 giri, sempre, lavorando, sempre, in ogni, catenella, punto maglia, sempre, un punto basso, per un totale, di 10 giri, e poi, nel prossimo video, nel prossimo video, proseguiamo, avanti, però, andiamo verso la rifinitura, per dargli una bella rifinitura, però, non tagliate i fili, uno, se vuole poi, anche cambiare colore, vuole fare, in altri colori, può anche farli, tranquillamente, però, dopo i 10 giri, vi fermate, e poi, proseguiamo, subito, col successivo, senza tagliare il filo, grazie, al prossimo, video, e auguro, ora, a tutti, una buona giornata, e Pasqua, ormai, se guardiamo, tra un mesetto, è Pasqua, e poi, questo, un po' alla volta, lo inserisco, anche, su Facebook, un'olta finito, un po' alla volta, lo inserisco, anche, nella mia pagina, di Facebook, e anche, nelle altre, pagine, dove seguo, che sia, che sono, vi potete trovare, su Ovaplay, velge decorazioni, anche lì, questo, inserisco, poi, una volta finito, come presentazione, e poi, un passo alla volta, ci ho qualche idea, di proseguimento, perché, dopo, dopo il cestino, realizziamo, che lì, devo ancora realizzare, lo schimino, che appoggiamo sotto, come piattino, sottofondo, che praticamente, ci combina, il disegno, però lì, devo fare, qualche, disegno, e poi, riusciamo, a proseguire, avanti, poi, un passo alla volta, ve lo faccio, anche vedere, dentro, qua, nel video, che vi sto, facendo vedere, e grazie, al prossimo, video, del proseguimento, del nostro, bellissimo cestino, che sto, realizzando, insieme a voi, per la Pasqueta, per la Pasqueta, e, vi ho, vi ho, a domani, vi ho, per la Pasqueta, per la Pasqueta, che, vi ho, Grazie a tutti